Devi gestire una grande realtà e hai bisogno di soluzioni più complesse? Tutte le caratteristiche e funzionalità di fatturazione elettronica di Aruba possono essere utilizzate con specifiche configurazioni anche per far fronte alle esigenze di realtà più grandi e complesse come holding o software house. Con fatturazione elettronica premium avrai soluzioni multicedente grazie alle quali potrai configurare più partite IVA in grado di emettere e ricevere fatture. Una soluzione perfetta ad esempio per chi ha la necessità di gestire la fatturazione elettronica per più aziende o più clienti scegliendo di volta in volta con quale cedente operare. Soluzioni multiutente per consentire l'utilizzo della fatturazione elettronica a più utenti impostando per loro livelli di accesso e permessi diversificati. Soluzioni di gestione in delega potrai collegare più account di fatturazione elettronica e inviare e ricevere fatture elettroniche per conto loro. Web service che ti consentiranno di integrare gestionali o ERP con fatturazione elettronica di Aruba. Potrai così inviare e ricevere fatture e comunicazioni finanziarie direttamente dal tuo gestionale. Hai ulteriori esigenze? Puoi sempre contattarci per avere una soluzione personalizzata. Adesso che sai tutto ciò che siamo in grado di offrirti vai al prossimo video per saperne di più. Puoi... 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 Puoi...